Arriva del 2 dicembre alle ore 17 alla Sala Soci Copp di Figline Valdarno e si tratta di una lettura teatrale a cura degli allievi del Laboratorio Teatrale Sfa Teatro che da anni ha sede nella Sala Soci Copp. Si presenta una lettura che si intitola La storia di Lisistrata e mette insieme frammenti della Commedia di Aristofane e una riscrittura in chiave fiabesca di Beatrice Masini, un'autrice contemporanea. Due linguaggi diversi, quello crudo della Commedia che mette a fuoco anche la violenza del linguaggio nella differenza di genere nella cultura dell'antica grecia e al tempo stesso invece una dimensione mitica della fiaba che anch'essa sottolinea la discriminazione del ruolo della donna nella società sia nell'antica grecia democratica che nella nostra società.